Io facevo una cosa molto bella con papà, io imparavo le poesie. Noi due eravamo molto simili, fisicamente, nel modo di fare, nel rapporto con il lavoro, ahimè perché lavoriamo troppo, io non riesco a mollare il lavoro mai, anche papà. Anche la nostra partecipazione, mia e di mio fratello, in movimenti studenteschi da allora, cioè papà ci contrastava anche molto, perché chiaramente in quel periodo era di modo da essere marxisti, papà ovviamente non lo era, era un libertario e ci criticava molto, però poi tutto sommato questo dialogo e questo contraddittorio faceva bene, credo, a entrambi. Ci ha lasciato tantissimo, proprio questa autonomia di pensiero, l'insegnamento più grosso di mio padre. Anche un feeling che c'era con mio padre. Noi magari appunto avevamo anche più scontri, perché eravamo molto simili, però poi ci capivamo perfettamente, perché la logica mentale era la stessa, quindi sì, ci arrabbiavamo l'uno con l'altro, però in realtà ci comprendevamo molto bene, però poi ognuno era fermo sulle sue posizioni, tra l'altro tutte e due duretti di cadere, cioè non duri, nemmeno facili.